Procediamo ora al conferimento del premio La Luna nel Pozzo 2016-2017. Il premio è stato concepito dai maestri d'orchestra e dai signori artisti del coro di Musa Classica. La piccola e leggera scultura, commissionata appositamente a un ignoto artigiano rumeno, vuole simboleggiare la musica come l'una e gli orchestrali Musa come il pozzo. Compito, duro lavoro e riconoscimento del premiato di quest'anno, il maestro Francesco Vizioli, girare anche per voi stasera la manovella. Purtroppo nei quasi dieci anni di Musa ho trovato un certo feeling nel sarcasmo e questo mi provoca delle onde di ritorno, diciamo, per cui mi sono trovato... non ho ancora capito se La Luna nel Pozzo è una cosa bella o no, non oso chiederlo. Comunque grazie, devo girare, mi hanno detto che devo girare la manuella perché esce una cosa bella, ecco un diamante... hai la luna, vedi, allora fanno rotonda, scusa la pedanteria, hai trovata la luna rotonda. Va bene, comunque grazie, questo, diciamo, tanto per essere un po' retorici, il concerto di oggi è la dimostrazione della Luna nel Pozzo, nel senso che io non ho fatto nessuna fatica a scegliere i brani, mi sono pervenuti dai musicisti Musa e quindi, che quindi ringrazio, grazie della Luna nel Pozzo che la metteremo nella nostra bacheca stupenda qui della sala. Procedo con la seconda parte del concerto, grazie.